qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti si va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione no 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.